e ovviamente fenomenale anche la mossa di Massimiliano Allegri che l'ha messa in campo qualche minuto fa al posto in Ipala guardate la conduzione perfetta del corpo come punta l'uomo e come va la conclusione non è perfetta Antonio Lopez ma ovviamente è una conclusione molto molto difficile questa perché il pallone è potentissimo poi certamente l'opera